buonasera dalla macchina più di così non riesco ad illuminare ragazzi proviamo aprendo la portiera ma dubito che entri qualcosa di meglio no infatti non entra niente di meglio allora bollettino bollettino che fa sorridere cioè aspetta un attimo fa sorridere bollettino che fa sorridere ultimamente alla juve non ce n'è fa sorridere nel senso che savona non ha lesioni e quindi lo vediamo in campo col prossimo anno no adesso sto scherzando non ha lesioni ma non credo proprio che ce la faccia per domenica perché in assenza di lesioni comunque visto che nel bollettino si scrive ufficialmente che dovrà essere rivalutato tenuto sotto controllo è evidente che se tanto mi da tanto siamo a giovedì venerdì sabato e domenica c'è già la partita contro lecce poi non abbiamo notizie certe su vlaovic io sono ancora abbastanza cauto nel senso che non mi stupirei se dovesse restare a casa anche anche domenica altrettanto forse mi stupirei di più se dovesse farcela però ci sono timide possibilità che quantomeno sia disponibile per domenica cioè che possa partire eventualmente dalla panchina in ogni caso credo che su questo saremo decisamente più precisi domani perché va da sé che se domani lui rientra in gruppo come ancora non ha fatto se rientra in gruppo allora a parte che oggi è stata una seduta diversa alle altre perché la squadra ha giocato ieri quindi non si può nemmeno parlare di allenamento di gruppo perché chi è stato reduce da Birmingham praticamente ha fatto una seduta defaticante domani è il test più importante appunto perché domani tutta la squadra si allena secondo i dettami degli allenamenti programmati cioè praticamente poca roba nel senso che già si deve preparare tatticamente anche la partita contro lecce se però domani il vlausi dovesse magari fare una prima parte di allenamento con il differenziato e poi una seconda parte col gruppo ed entrare col gruppo definitivamente sabato allora a questo punto sarebbe a disposizione sarebbe convocato per domenica quindi come si dice in questi casi monitoriamo la situazione e vediamo di capirci qualche cosa di più ad oggi ufficialmente quindi savona rientra come nel novero di coloro che sono indisponibili o comunque a forte rischio di disponibilità come nono giocatore di questa di questa di questa conta che potrebbe però appunto compensarsi con il rientro di Valovic che per me sarebbe fondamentale per la partita di domenica fondamentale il fatto che non scusa avessi dato due gol se lo vado errato proprio a Lecce ma è fondamentale che rientri questo giocatore per tutto l'insieme di ragioni delle quali abbiamo parlato oggi alcuni di voi alcuni di voi hanno concordato con la mia tesi altri no però per il resto non si può andare d'accordo con tutti e giustamente non non si può piacere a tutti detto questo il fronte del mercato continua ad essere monopolizzato quantomeno come attenzione da dalla difesa anche se giuntoli ha detto comunque nomi sul tacuino ne abbiamo e si riferiva sia la difesa che l'attacco ragazzi è inutile che cioè è normale che un direttore sportivo non possa o comunque non è neanche giusto chiamarlo direttore sportivo direttore generale abbia abbia non abbia diciamo la voglia di pubblicamente di dire tutte quelle che potranno essere le strategie di mercato ma va da sé che anche sul sull'attacco qualcosa di attenzionato c'è qualcuno di attenzionato c'è e noi sono quelli di lucca e zirze c'è la questione fagioli la questione fagioli che adesso sta un po prendendosi l'attenzione e devo dire che riscontri diretti purtroppo in questo caso non sono ancora riuscito ad averne però c'è una sensazione forte che il ragazzo possa effettivamente finire sul mercato lo dimostrano un po di di oltre alle voci certi suoi post abbastanza non abbastanza chiari ma che esprimono un certo da un lato una certa malinconia da un lato la voglia di rivedere una luce no l'ultimo l'ultimo post che ha fatto su instagram ha scelto una canzone ai che vuol dire alto che ha come significato uscire dal buio e ritrovare finalmente la luce trovarsi una rivincita qualche cosa di importante che probabilmente prende spunto anche da tutto quello che ha passato l'anno scorso però al di là delle sensazioni insomma continuano a moltiplicarsi questi rumori di mercato che lo vorrebbero appunto partente o quantomeno sulla lista di coloro che possono servire per fare cassa e finanziare una parte del mercato di rafforzamento di di gennaio già di gennaio valutazione intorno ai 25 milioni giuntoli è stato a manchester oltre che a birmingham non è rientrato a quanto pare con la squadra non è stato segnalato con la squadra da birmingham quest'oggi quindi sta proseguendo i suoi colloqui che ci sia un'idea quindi di privarsi di fagioli e che la sua destinazione possa essere l'inghilterra o la francia è un'ipotesi in questo momento verosimile verosimile non vuol dire certa vuol dire verosimile perché perché è l'unico giocatore che diciamo così fa realizzare alla juventus adesso dico quella parolaccia lì è me la dico quella parolaccia lì è che non si deve pronunciare per la juve altrimenti subito 15 punti di penalizzazione anzi quanto vale 25 milioni 25 punti di penalizzazione quindi la parola è plus valenza fagioli realizzerebbe una plus valenza essendo un prodotto dal settore giovanile e quindi sarebbe un guadagno netto da parte di due sempre che la juve possa realizzare le plus valenze perché non so se è possibile che la juve possa fare un'operazione di questo genere c'è guadagnare da zero a tot ecco partendo da zero guadagnare tot non so se l'è consentito o forse sì perché sarebbe una sola ecco sarebbe una sola e allora si allineerebbe alle altre squadre che magari ne hanno fatte una sola e quindi si può se invece ne fai tante la juve non può questo era il senso naturalmente dei capi di accusa dei vari pronunciamenti e quant'altro quindi se ne aveva una sola è possibile vabbè usciamo dall'ironia che tanta ironia non è perché ha avuto dei seri agganci nella realtà e la juve lo può testimoniare quindi potrebbe essere questo insomma e poi c'è la situazione di douglas lewis anche tutto questo rumoreggiare nei confronti di douglas lewis hanno fatto parlare monchi che dice sì ma lo riprendere anche subito lui non può essere soddisfatto a me continuano a dire che lui vuol giocarsi le sue carte e vuole rimanere alla juve conquistarsi un posto eccetera poi c'è anche l'altro lato l'altro aspetto no quando anche la juve decidesse di rimetterlo sul mercato beh ragazzi non è facile e lì fa una minusvalenza quindi è consentita quindi lì fa una minusvalenza nel senso che è difficile che tu trovi poi una squadra che ti dà una società che ti dà il valore del cartellino che era di 50 milioni poi diciamo così in parte compensato da healing e barenecea però l'operazione era costata 50 milioni no chi trovi adesso che ti dà più o meno la stessa cifra o non ti fa perdere molto dopo tre mesi che il giocatore praticamente è inorganico ad una società nella quale ha giocato due partite da titolare è fermo da un mese non lo so cioè è un'altra operazione difficile questa qua da portare a termine ragazzi è molto molto difficile quando anche ci fosse la possibilità quando anche il calciatore avesse espresso ma non mi risulta l'intenzione di andarsene via e come fai come fai è difficile cioè o lo regali o lo dai in prestito se no non vedo altre altre vie poi è ovvio e va da sé che però attenzione se giuntoli dice che la squadra è corta in difesa e quindi dai via un centrocampista barra 2 per impolpare la difesa poi sei corta centrocampo però c'è il gioco della coperta ragazzi ecco perché io mi aspetto comunque dalla juve più di un'operazione a gennaio più di un'operazione è il gioco della coperta non ci si scappa metti di qui e tiri indietro di là però quindi non lo so di sicuro si vedrà una juve un po' diversa ecco a gennaio si vedrà una juve un po' diversa con qualche innesto interessante anche perché la juve non può permettersi di di non partecipare alla volata finale della stagione soprattutto in quella della champions ragazzi perché qua adesso la situazione si sta facendo adesso mi sto aggiungando un po' ma la situazione si sta facendo obiettivamente complicata poi è vero che ci sono calcoli che dicono che basta che tu faccia tre punti e sei a nelle prime 24 può essere per carità può essere però è un avversario molto scomodo perché manchester city naviga in bruttissime acqua la settimana prossima c'è il processo quindi risente tantissimo perché io quando scusate altra piccola divarazione quando sento dire quale sarà il problema del city e io non riesco a spiegarmelo questa involuzione questa mancanza di attenzione vince tra 0 fa tra tra ragazzi prima del sito e quello lì che c'è un processo e i giocatori del city se il city viene squalificato viene penalizzato o addirittura mandato in serie b inglese ok championship no premiership se ne vogliono andare e hanno la testa lì ma non ci vuole molto a capirlo hanno una testa lì però è sempre city è tornando a bomba quindi attenzione perché le rume sta entrando in una fase molto delicata della sua stagione mamma mia quanto parlato ragazzi scusatemi ci sentiamo ci vediamo domani e quindi iscrivetevi al canale ciao ciao